3x3 si è nascato da 24 patenze, un cioio di cuore. 3x3 si è nascato da 24 patenze, un cioio di cuore. 3x3 si è nascato da 24 patenze, un cioio di cuore. 3x3 si è nascato da 24 patenze, un cioio di cuore. 3x3 si è nascato da 24 patenze, un cioio di cuore. 3x3 si è nascato da 24 patenze, un cioio di cuore. Siamo felici perché siete in tanti ad aiutarci e non ci avete abbandonato. Anche in questo momento difficile quando siamo arrivati qui alla SARF abbiamo trovato molto mangime per noi. e quindi un salutone a Patrizia, a Cinzia e Pasquale, a Vincenzo, a Brivaela e Alessandro, a Sabrina, a Piera e a Laura. E niente, siamo corso avviso perché è così, ora loro staranno bene e mangeranno di più e li copreremo di più sempre grazie a voi. Eravamo veramente, come possiamo dire, delusi per loro. Questo foglietto ti va davanti la faccia. E sono emozionato e allora va bene così non dico più niente. Grazie di volerci e di volere a loro bene. Grazie a tutti.